Le terme di Caramanico potrebbero riaprire i battenti già dall'estate del 2023. Basterebbe perseguire una di queste tre progettualità elaborate consultando esperti del settore. Gestione in house da parte della regione Abruzzo mediante fira, esproprio o acquisto dei beni da parte della regione, partenerariato pubblico privato. E' quanto evidenziano i consiglieri del gruppo regionale del Partito Democratico, del gruppo comunale Uniti per Caramanico e l'ex sindaco Mario Bazzocca, che oggi, incontrando la stampa Pescara, hanno illustrato le proposte. Le terme sono chiusi ormai da due anni a causa del fallimento dell'ex concessionaria, con evidenti ripercussioni su un vasto comprensorio, ha ricordato l'ex sindaco Mazzocca, secondo il quale le procedure avviate dalla regione non risolvono i problemi della gestione delle strutture e della concessione delle acque. Queste le possibili soluzioni. La cognizione esatta di ciò che in questi anni si è perso a livello di tessuto sociale, ma anche e soprattutto economico, delle possibili soluzioni. La proposta di legge va in quella direzione di un breve periodo di un triennio per accompagnare questa nuova start-up, questa ripresa. E in terzo luogo poi andare a verificare effettivamente tutte le condizioni che poi devono essere messe nell'ambito della procedura di evidenza pubblica, sia per quanto attiene la parte fallimentare di competenze di curatore, sia per quanto attiene soprattutto la parte regionale. il tema delle concessioni termali. E poi una serie di domande che ormai noi poniamo alla regione da circa tre anni, su cui non abbiamo risposto. Per esempio, che fino hanno fatto le piscine termali, il primo lotto del complesso, ormai giudicato tre anni fa, e che non ha visto la luce, che fino ha fatto il secondo finanziamento, del secondo e ultimo lotto per le piscine termali, che con un complessivo investimento di 1.600.000 euro previsto e stanziato dalla vecchia giunta regionale d'Alfonso, avrebbero sicuramente costituito non solo un presidio pubblico all'interno dello stabilimento termale privato ormai da 80 anni, ma anche e soprattutto avrebbero scongiurato il verificarsi di questa soluzione di continuità che sta davvero danneggiando l'intero territorio, l'intero copersorio.